Presidente Sebastiani inizia un nuovo campionato, si parte da Livorno, con quali motivazioni, con quali sensazioni rispetto agli ultimi anni? Penso con un ritrovato entusiasmo perché dopo la brutta botta di Bologna è chiaro che puoi solo ripartire. Abbiamo ricostruito sostanzialmente, abbiamo integrato dei giocatori importanti su una rosa che lo era già e ripartiamo con la consapevolezza di avere una squadra buona che può fare un buon campionato. E' un pescara che punta? Un pescara che punta ad essere protagonista e per essere protagonista bisogna stare lì davanti. E' una squadra costruita per fare questo, però è chiaro che poi dopo il campo dirà se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. Dal punto di vista delle figurine ci sono tutte, adesso bisogna che le figurine si trasportino sul campo e diano il senso di quello che può fare questa squadra. Ecco, cosa vi ha insegnato l'ultimo campionato? Ma cosa ci ha insegnato? Ogni campionato dice una cosa nuova. Noi l'altro anno siamo partiti con una buona squadra, anche quella accreditata da tutti quanti. Siamo partiti non benissimo, ci siamo poi ripresi, alla fine avevamo perso qualche punto per strada. Abbiamo rimesso in piedi una stagione nell'ultima partita in casa con Livorno proprio e poi abbiamo fatto un playoff penso importantissimo. Sicuramente tra noi e Avellino, se c'era una squadra che doveva andare in Serie A sicuramente era tra noi e l'Avellino. Però il Bologna aveva fatto di più durante il campionato, quindi ha avuto quel piccolo vantaggio che gli ha consentito a parità di condizioni di andare in Serie A. Cercate però una positività nell'ambiente. Sì, una positività. Noi ci auguriamo che la gente capisca quegli sforzi che noi stiamo facendo e che abbiamo dimostrato di fare anche quest'anno. Perché se è vero che abbiamo fatto mercato in uscita, è anche vero che abbiamo fatto tanto mercato in entrata sia di giovani che di meno giovani, molti più giovani sicuramente, che saranno il futuro del Pescara. Grazie. 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 Grazie.